Andare nel futuro senza digitale è come andare nel deserto senza acqua. Con questa certezza si è aperto alla Fondazione Feltrinelli il primo HR Digital Mindset Award volto a riconoscere i meriti delle aziende a pripista verso la digitalizzazione. Il titolo del concorso dedicato alla memoria di Marco Fertonani è stato assegnato a Costa Crociere. L'HR Digital Mindset Award tiene conto dell'importanza per le aziende di ricercare un positivo intreccio tra innovazione digitale e coinvolgimento delle persone affidandosi ai nuovi strumenti tecnologici ma senza tralasciare i classici tools basati sull'ascolto e la comprensione. A illustrare come è cambiato il ruolo delle HR nell'era della digitalizzazione è intervenuto anche Vito Rotondi, CEO Managing Director di MEP. Ci sono tre direttrici, tre variabili. Una è l'apprendimento, l'ansietà. La terza variabile è la fiducia. È sorprendente come mentre l'apprendimento è una parabola che ha una crescita immediata e poi tende a stabilizzarsi, l'ansia invece parta altissima e invece la fiducia ha un comportamento bizzarro perché è imprevedibile. Crolla di fronte al cambiamento e raggiunge un punto. Spesso quel punto coincide dove si incrociano apprendimento e ansietà. L'ansietà viene azzerata e la fiducia cresce. È umano questo comportamento, molto umano. Poterlo rappresentare in modo disascalico significa emancipare tutte le organizzazioni sulla tecnologia. Per noi l'argomento digitalizzazione, ormai viviamo tutti un mondo digitale, è chiaro che l'ansia crolla velocemente, l'apprendimento è una variabile più lenta, ma la fiducia scatta immediatamente perché siamo tutti sensibili alla tecnologia digitale.